Potrebbe essere giunta al capolinea la lunga questione relativa alla stabilizzazione dei precari nelle aziende sanitarie locali pugliesi. Secondo i sindacati di categoria, i tempi per completare le procedure stanno diventando troppo lunghi. Per questo motivo migliaia di precari provenienti da tutta la Puglia sono scesi in strada di fronte alla presidenza della regione Puglia per manifestare il loro dissenso. Infermieri, medici, tecnici di laboratorio e radiologia, terapisti della riabilitazione dinanzi alla sede della regione affinché i direttori generali delle ASL provvedano a regolarizzare questa annosa questione poiché, a detta dei sindacati della sanità, migliaia di operatori precari sono tuttora non stabilizzati mentre la regione paga peso d'oro i privati. La situazione della stabilizzazione dei precari a distanza di tre anni dal primo provvedimento legislativo che è del marzo 2015 è al palo. Si susseguono oramai da un anno e mezzo riunioni infruttuose. Non siamo riusciti nemmeno ad avere dal dottor Ruscitti i dati sulla ricognizione dei precari che hanno diritto alla stabilizzazione. Aveva promesso entro due settimane nella riunione del 6 febbraio, sono passate 5-6 settimane e non si sente niente. Nel frattempo la procedura concorsuale degli infermieri della ASBARI è stata conclusa e anche su quel versante nulla si fa. Si aspetta inutilmente che passi il tempo ed è scandaloso che si possa ipotizzare l'assunzione di 40 infermieri a tempo determinato per 24 mesi alla Sanita Service di Foggia. Al posto di stabilizzare i precari negli ospedali e nei servizi territoriali della sanità pugliese si pensa di costruire nuovi precari nelle società in house. Il piano di riordino è un piano che la regione ha sviluppato a seguito del DM 70 2015 che prevede la riorganizzazione delle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale. La Puglia è stata carente per gli ultimi 15 anni su questo piano per cui oggi deve giocoforza ridisegnare un po' la distribuzione degli ospedali e l'assetto che questi ospedali devono avere. È chiaro che però la partita è più politica che sindacale. Noi stiamo qui solo per rivendicare il diritto al lavoro, al lavoro dignitoso e il diritto alla qualità delle cure perché essendo operatori sanitari noi abbiamo a che fare tutti i giorni con i pazienti i quali ci ringraziano per la disponibilità ma si lamentano per la disorganizzazione che c'è perché non è possibile avere in un reparto con 20 posti letto un solo infermiere.